dottore le posso rubare un minuto in video sono un giornalista che racconta storie non la riconosco non mi riconosce mi chiamo vannizzagnoli.it racconto giorno e notte storie vedo che ha questo che è inconsueto soprattutto adesso che lavoro fa posso chiedere o faceva sono a seconda dei casi ricercatore disoccupato o possidente scelga lei una delle tre no posso rubarle pochi minuti solo perché non ho il cappellino racconto sì sì altro che altro che disoccupato evitato sono appena entrato tutta la mia simpatia sono appena entrato in libreria il simpatico flavio no 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 non mi ha facciato sentito mentre salivo no come dire venuto anche oggi a rompere a cercare visibilità oggi c'è anche un po di gente sono presenti oggi genere ci sono presentazioni qualche volta con otto persone l'unico giornalista ha trattato a pesci in faccia anni fa hanno chiamato hanno preso un non butta fuori insomma una sicurezza apposta per contenermi qualcosa di reale vuol dire che lei è un rompicoglioni patentato no no ma io prendo rompicoglioni prendo come un termine positivo eh moglie scribi s Capittura fermi perché no non si ecco ecco